Dimmi Anche Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider dovrei finire L'ho cominciato tempo fa Pensavi di cominciarlo? Eric, a che lo vai? Perfetto Sì, lo so che non ci vai ora Ma La domanda era un'altra, che lo vai a letto Che avrei una cosina da fare a Dark Souls 1 Che ancora non l'ho fatto E vabbè, non va a letto Che sennò si può fissare una sera che mi dici Ah ok Che a me manca ancora a fare A Dark Souls Il primo finale Il secondo finale Scusa Quello dei quattro re da fare per primi Per il coso Per il serpente eccetera eccetera Non lo so se è cattivo Insomma Il finale Con il coso Con il serpente alternativo E Youtube ma balletto ora non ci si fa vero non ci si fa